Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Prego, scherzo! Sì? Sega! Si sega? Perché rimborso? Ma di cosa? Sì, perché avete scammato sul 7-7 era 8-6 milioni Fino! Ma voi siete in seguito? Ragazzi siamo a 7 milioni! Anche se non si sono bloccati le 8-3-2 Grazie a Dio Tutti vede? Non l'ho fatto così per la strada Vada pure fuori gentilmente, grazie Grazie Qui ce la stiamo schiossando? Sì, ora facciamo il minato a lui Perché sei poi svinito però Ok? Allora La prima regola quando arrivi un colpo così è buttare fuori Ma però mi laccia nel tempo dopo un po' ne dava un attimo a pausa Te ne mette solo uno Per l'Italia Ma questo ti ammazza No! Ma perché ancora non ho mai congelato? Ma questo non ho mai congelato Dopo non ci sei tafra Andai cazzo Pichiamo islo Pichiamo islo Pichiamo islo Pallando di gas Pallando di gas Loro di gas Mio Mi chiamano Pallando di gas Pallando di gas no mo si è rotto ma sarà dentro alla banana, cos'è un pezzo posso dire che in roma ha sempre soddisfazione ma che cazzo ci fa? guarda che l'ho portato, stasera si tromba e dove andiamo scusami bella la serata, immagina non fa serate ma la serata diciamo dalle 8 alle 11 poi alle 11 a letto di mattina bravo bravo bello facciamo un vlog 24 ore con salsedo che tal te la felice ti hanno mai chiamato salsina? salsa ci hai sì ci hai sì mamma mia c'è tutto l'album la discografia di Icy Icy quando viene a Milano? ma è stata Milano ha fatto la serata adesso bravo eh complimenti non tenermi fermato qua bravo è Icy bravo complimenti non venire mai a salutare volete sentire la nuova canzone di Don Pero? ve lo faccio sentire in anteprima te lo giuro è in anteprima vai sentire la canzone di Don Pero giunti scappiamo ai su telefoni giocavo per la strada con pantaloni strappati quando il campo era la street i tuoi zanni erano i mari giocavo a fifa street senza giocare tra le mani non ho mai studiato un giorno erano diversi dei piani ma col tempo lo impari che gli errori li ripaghi li torno più grandi sono sempre puntuali non sono un figlio a modello ho lasciato vienti ai miei cari sto correndo nel tempo devo curare i metralli sto sognando questo giorno da una vita intera non sarà un panamera a farmi fare carriera mi fa sera a chiamarti a sentirti leggera sapere che la sera vai a dormire serena sto aspettando questo giorno da una vita intera non sarà un panamera a farmi fare carriera mi fa sera a chiamarti a sentirti leggera sapere che la sera vai a dormire serena questa ora non ti rispondo più non mi cerchi questo è quello di Don Pero nuova anche a me c'è un po' tra qui Guido e qui dici hai iniziato appassionati appunto del del in generale di tanti temi come salute intrezione così nel 2015 hai venuto fuori poi scoperto dai è un porcone scusami sto scherzando andiamo avanti scusami tu devi tornare a Bologna si grazie mille tanti cuori per medi in chat ringraziamo sono gentilissimi sono gentilissimi grazie cuori per medi cuori per medi grazie mille grazie mille ciao ci vediamo sempre schiaffi prendi oggi poi lì è il trauma questo è il trauma cranico per colpa tua stronzo eh possiamo dirlo prima è stato qui così c'è una clip io direi che la box non inizierò mai ma ma come mi hai chiamato scusami io sono brava te lo ascolto guarda come mi faccia male senza toccare no 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 ho già capito basta basta dice mettiti pure qua gentilmente ve lo ringraziare ragazzi voglio ringraziare presentati pure di come ti chiami se qualcuno ti vuole vuole contattare io mi chiamo Francesco Paolo su Instagram figli papacenco resto su tutti i ring state attenti anche se mi stavano molestando sul pal però che senso nel senso appena stato sul pal c'è stata questa qua che letteralmente eeeh mi stava afferrando la minchia non c'è valida ma perché ti sei allontanato scusa a parte invertire da denuncia perché non ti potevi toccare la minchia no no a me per carità anzi vabbè mi è dispiaciuto poi che il puttafuori l'ha un po' allontanato quante ne aveva questa ragazza scusami quante ne aveva questa ragazza no è una maggiore vai guardi con due ganci uno due rimetti buono c'è c'è pronta oh anzi no ma vedete quanti non ci sono si si che mille se alle panna tu ce l'hai io mi hai sentito veramente adesso toccare i batteri vai 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 chat può pare che c'è la chat lui ti mette due ganci tu scrivi quando c'è dei metti due ganci alti come cazzo si faceva devi aspettare non hai messo troppo troppo no no di solito qua fai un rinchi di riscorso di solito qua fai un rinchi discorso di adesso rimbuffering ragazzi cuore in chat perché siamo arrivati alla fine mi sono dimenticato wallfox scrive ai moderatori che ti aggiungono il caso ringrazio tutti per avermi seguito questa maniera da 48 ore ragazzi si muovemente alla fine vi ringrazio grazie mille a tutti per i cuori ci ragioniamo fra 4-5 giorni che vado un attimino a riposare per 5 giorni stacco un attimino grazie mille a tutti per il supporto grazie mille a tutti i moderatori grazie mille a tutto lo staff grazie mille a tutti gli ospiti che sono passati con noi grazie mille a Fubben Primus che è sempre stato al mio fianco grazie mille a Vigia grazie mille a Mattito per essere stati qui con noi oggi ragazzi tutti i cuori in chat per favore vi siete divisi il guadagno? Sì ma mo glieli ridò Perché sono Cioè la mia parte Non ha senso Scusa Quanti soldi sono Scusatemi Ricordatemi Eh Quanti soldi sono Ti 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 Va bene Per te sono Ma è così Ti ho dato una live per un udente Non ho capito Francesco Bruno non farlo mai più Guardi i sensi per un secondo Giuro Bruno in serio Allora posso provvedermi Che cazzo è mortale Guarda Levatevi Devo far vedere Il mio calcio Aspetta Io non gioco più Vabbè Ho appena assunto La paura Aspetta Aspetta Vabbè Allora Giura 100% Mi inquadri E quanto vuoi C'è una clip Così vede Giura Così Senza baciato Ma vi state baciando Allora Vieni qua Vieni qua Mi perpe stupendo Ha riso Ha riso Ciao Ciao Tis Bacine C'è C'è Qu'è La C'è